La Battipagliese dopo le 5 sconfitte di fila deve assolutamente reagire e cercare di fare punti sin dalla prossima difficile trasferta che si giocherà di sabato. Infatti la società sul proprio sito ha annunciato che il match di campionato tra il Sando Paso e Battipagliese si disputerà sabato 9 febbraio alle ore 15 presso l'impianto sportivo De Cicco di Prato-La Serra-Ravellino. Quindi ci sarà la possibilità anche per i tifosi di seguire la Battipagliese come viene messo in evidenza. Il suddetto impianto, secondo quanto comunicato dalla società locale, ha due settori ben separati. Il settore ospiti ha una capienza massima di 100 posti. Ingresso al campo 5 euro mentre donne e bambini entrano gratis.